Ciao a tutti, benvenuti sui Vansat Channel, oggi vi voglio parlare degli effetti luce, effetti luce vi presento questa sfera della Monacore, che è una sfera comandabile anche tramite il comando DMX, oppure da usare da sola, senza collegarla al DMX, è una sfera che va a tempo di musica, cambia colore e accelera ed eccelera la rotazione, adesso vi faccio vedere un attimo accendendola, accendendola il tipo di effetto che ci salta fuori, adesso sta girando piano perché non c'è la musica, quando c'è il segnale musicale prende, accelera, diminuisce e cambia l'intensità luminosa, possiamo vedere che qui abbiamo il jack per il telecomando remoto e abbiamo l'ingresso e l'uscita per il comando DMX, è programmabile, abbiamo dei di switch che ci servono appunto per programmare le funzioni della sfera, è molto carina, ce l'ho in promo questo mese, anziché 180 euro, 160 euro, è anche professionale, cioè nel senso che questa la trovate nella sezione degli effetti luce discoteca del mio sito, vi saluto e alla prossima.